Ci troviamo all'esterno del palazzo dell'Agenzia delle Entrate di Pesero in via Mameli, dove attorno a mezzogiorno si sono concluse quattro ore di una mattinata alquanto movimentata. Poco prima delle otto, infatti, gli addetti alla sicurezza, alla vigilanza del palazzo, hanno rilevato la presenza di un pacco appoggiato sul marciapiede, proprio davanti all'entrata degli uffici. Un pacco di forma quadrata avvolto in una busta di plastica del centro commerciale Globo, pacco la cui presenza è stata ritenuta sospetta e che ha portato ad allertare le forze dell'ordine e da qui è partita una procedura di sospetto allarme bomba, sospetto pacco bomba davanti al palazzo. Cosa è successo? È successo che il personale, circa 100 persone dell'Agenzia delle Entrate, possono accedere alla struttura tra le 7 e 3 quarti e le 8 e 3 quarti, ma attorno alle 8 è scattato il piano di evacuazione, come da protocollo in questi casi. Parte del personale è stato fatto uscire, altri che non erano ancora arrivati non sono stati fatti entrare. Sono arrivati sul posto carabinieri, vigili del fuoco, polizia e polizia locale ed è stata allertata la chiamata agli artificieri di Ancona per tutti i rilievi del caso. La procedura si è svolta nel giro di alcune ore, anche con l'ausilio di un robot remotizzato. La procedura degli artificieri attraverso un robot remotizzato hanno di fatto scongiurato la presenza di materiale esplosivo e dunque la presenza di pericoli. Il pacco è stato smascherato, di fatto si trattava di una pila di libri. Ora sono scattate le indagini dei carabinieri per rilevare anche che cosa è successo, come si sia arrivato a questo procurato allarme. Intanto noi abbiamo sentito la voce dell'addetto alla vigilanza, alla custodia del palazzo, che ha rilevato la presenza del pacco sospetto che poi ha fatto scattare l'intera procedura. Sono arrivato qua verso le 7.05, dopo un'oretta e passa, il pacco ancora non veniva preso e di conseguenza chiedendo consiglio ad un amico che è in polizia mi ha detto di chiamare le forze dell'ordine. Sono arrivate le pattuglie, abbiamo sbattato il palazzo e di conseguenza sono arrivati gli artificieri. Non abbiamo fatto entrare la gente, quell'altra, circa 20-30 persone, le abbiamo fatte scendere. Avete avuto l'accortezza di pensare che servisse innescare questa procedura? Io di conseguenza, essendo che è un posto dove comunque ci lavora molta gente, ci arrivano altri clienti e tutto, ho detto chiamiamoli e stiamo tranquilli. Il personale dell'agenzia delle entrate si è radunato nei giardini del centro Penelli all'esterno dell'area che è stata a lungo perimetrata dalle forze dell'ordine in ragioni di sicurezza per il procurato allarme e bomba. Poi il personale è stato fatto rientrare attorno a mezzogiorno, va rilevato anche che le procedure del caso hanno portato alcuni disagi alla circolazione stradale. Infatti per circa un'ora è stata interrotta dalla polizia locale la circolazione sul tratto di Via Mameli, compreso tra il semaforo di Via Cecchie e Via Cavour e la rotatoria di Via del Monaco e degli Orti Giuli. Ed ora scattano le indagini di rito dei carabinieri per risalire all'origine di questo procurato allarme. Non si esclude il brutto scherzo o anche più semplicemente che il proprietario dei libri in questione abbia inavvertitamente dimenticato pacco e busta davanti all'ingresso scatenando di fatto questo caotico allarme.